E adesso dedichiamo questo articolo ad una vecchia conoscenza di uomini e donne ossia Franco Garna, che come sapete benissimo è uscito dalla trasmissione in compagnia della sua Sabrina, dopo essere stato a lungo corteggiatore di Barbara De Santi, poi la loro storia è andata come è andata lei ha riparato con Davide, mentre Franco Garna con Sabrina, ma come sta andando la loro storia d'amore, beh a giudicare dagli ultimi scatti che la coppia ha lasciato su Instagram diciamo pure che non potrebbe andare in modo migliore, Franco e Sabrina infatti sono praticamente inseparabili e attualmente sono in vacanze insieme per festeggiare i due mesi di storia e scrivono su Twitter, abbiamo festeggiato due mesi con una cena indimenticabile, infatti la dama Sabrina ha deciso di stupirlo con una bellissima sorpresa, ossia gli ha organizzato una cena in spiaggia all'ime di Candela e Franco Garna ha deciso di pubblicare questa bellissima foto, chi li ritrae felici, abbronzati e sorridenti, insomma ci sembra di poter dire che fra di loro va tutto bene.